una curiosità c'è qualcosa qualche comportamento sbagliato in particolare che ti capita di notare nella gestione dei team o comunque che ti fa percepire da lontano che quel team è destinato al fallimento tra virgolette perché vedi che team leader si sta comportando in determinati modi allora sì un paio di cose uno sicuramente quando un team leader un imprenditore scarica la responsabilità troppa e quindi diciamo all'arroganza di pensare di far sempre tutto bene di essere nel giusto quando invece magari la responsabilità è condivisa che è importante condividerla ma non è solo di anzi di solito il team leader è quello che prende decisioni o fa fare determinate cose quindi è il primo che dovrebbe guardare le sue responsabilità e l'altra cosa è quando si tiene soffocato qualcuno ovvero si cerca di non far crescere o magari per paura che possa magari prendere e andare da un'altra parte aprirsi la sua azienda ad esempio oppure non si dà abbastanza fiducia non si crede che quella persona sia altamente motivata e abbia alte competenze quindi non gli dai spazio non gli dà la possibilità di fare prendere decisioni in autonomia non lo fai sentire importante quindi lo fai sentire soffocato dal controllo quindi bisogno degli imprenditori di controllare che sia sempre fatto tutto bene a modino e quindi questo non ti permette comunque di creare una squadra di collaboratori che alla fine sono coloro a cui noi vorremmo delegare qualunque cosa cioè delegare qualcosa vuol dire proprio dargli lo spazio come di essere dei nostri cloni nella mia azienda nella mia realtà i nostri direttori dei nostri centri sono questo sono proprio persone che possono lavorare nel loro spazio come vogliono sono felici perché hanno le loro soddisfazioni e si sentono anche liberi di muoversi nonostante ci sia un grande confronto e alcune decisioni si prendono insieme il soffocare i collaboratori non farli crescere per paura che possano o sbagliare o possano non essere all'altezza di determinate cose è una sicuramente dei modi per insomma per non arrivare a grandi risultati e andare a continuare probabilmente a cambiare le risorse della serie questa non va bene ne prendiamo un'altra e quindi magari non sono quelle persone che devono cambiare forse deve cambiare qualcosa nella testa del team leader grazie a tutti